Due parole su quello che mi è capitato dall'inizio. Io nel 2010 ho aperto un sito che si intitola Incontro Storia con l'obiettivo di rivisitare, riconsiderare i fatti storici alla luce di un riesame dei documenti e soprattutto nell'ottica di una maggiore indipendenza e imparzialità. La mia idea è di insegnare, io insegno storia, però al di là dell'insegnare, di proporre una storia il più possibile libera da condizionamenti politici. È forse un'utopia. Ognuno di noi è per forza condizionato e condizionante. Ma dobbiamo fare uno sforzo, dobbiamo cercare comunque di comportarci secondo quella che si definisce un'onestà intellettuale che fa sì che al di là delle nostre particolari ideologie, del nostro credo religioso piuttosto che politico, si tenti il più possibile di rimanere imparziali quando si tratta di operare in un ambito come quello storico nei confronti del quale bisogna porsi in modo scientifico. Non importa chi comanda, non importa in cosa crediamo, quello che importa è come si sono verificati i fatti, quello che importa è l'obiettività che uno studioso deve sempre mettere in gioco per poter informare. Il gancio iniziale me l'ha dato un alunno quando in una delle solite lezioni, perché è spesso così, gli insegnanti, se c'è qualche insegnante qui lo sa bene, gli insegnanti spesso imparano a memoria la solfa che insegnano da tanti anni, la ripetono tutti gli anni uguale, cercano il libro di testo che sia il più possibile in sintonia con quello che sanno già a memoria e non si smuove nulla, non ci si aggiorna, non si sta a cercare di capire se per caso le cose sono state rivisitate, reinterpretate, si cerca di fare il minor lavoro possibile e di ripetere un po' a memoria la solita solfa. E io ero lì con la mia solita solfa che insegnavo in quella terza liceo di tanti anni fa, insegnavo la solita menata relativamente a Cristoforo Colombo e a un certo punto, mentre stavo raccontando la mia storia, che era la storia di tutti, un ragazzo alza la mano e mi dice Prof, ma questa cosa non torna, non funziona. Dico perché? Ma perché? Com'è che voi dite che Colombo era un morto di fame, figlio di Lanai di Genova, un poveraccio, e questo qui cosa fa? Piglia, va in Spagna, va a parlare con i re cristianissimi, Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia e va a proporre un viaggio verso Oriente, passando dall'altra parte, da Occidente, ma insomma dice sto ragazzo, io se devo chiedere al mio sindaco di ricevermi non riesco. Questo qui è un morto di fame, parte da Genova e si fa ricevere dai re di Spagna? No, non me la conta giusta. Non è sciocco questo. Questo è il famoso, il re nudo, no? Cioè, attenzione, le scuole sono piene di insegnanti che si arrampicano sugli specchi. È proprio tipico dell'insegnante quando comincia a spiegare e il ragazzo osa fare una domanda un po' troppo impertinente e allora qual è la scorciatoia? E dire tu pensi a studiare invece che a fare domande? Oppure dire non accetto domande oppure dovresti saperlo. Un sacco di stupidaggini, di scorciatoie che servono per evitare di rispondere tutte le volte che non sappiamo cosa rispondere. Ma, a parte della questione dell'onestà intellettuale, è il comportamento di chi invece, almeno a casa, poi va a cercarsi le domande. Io, uno degli insegnanti che ho amato di più a filosofia, all'Università di Torino, è stato il professor Marconi, che aveva questa caratteristica che tutte le volte che non sapeva una cosa diceva non lo so. Oh Dio, che bello sentire un insegnante che dice non lo so. Non lo so vuol dire mi informerò perché mi rendo conto della responsabilità che ho nei vostri confronti. E quindi andrò a casa e cercherò di capire, però momentaneamente è inutile che io mi inventi una balla. Io non lo so. Ecco, questo non sapere ha radici profondissime nella filosofia e la consapevolizzazione del non sapere è l'unica cultura che ci possiamo permettere e a cui possiamo ambire. E quindi questo non sapere, questo dubbio che il ragazzo mi ha messo, un ragazzino di 16 anni mi ha avanzato, questa difficoltà in cui mi sono trovato mi è piaciuta molto e mi sono chiesto cosa so io veramente della storia e in generale di tutto. Perché non proviamo a metterla in dubbio, in discussione? Così è nato questo sito che è un incontro tra tanti studiosi diciamo alternativi che non hanno più voglia di leggere e ripetere la solita solfa ma cercano di vedere le cose in un modo diverso e ci siamo ognuno per conto proprio perché siamo insomma e siamo isole vaganti non siamo un'associazione di niente io la gestisco ma chiunque abbia delle buone idee mi manda articoli eccetera e abbiamo messo su questo sistema di questo archivio di diversi studi sugli argomenti più svariati e ce ne sarebbe da dire tantissimo perché questa cosa ha attirato tutta una serie di curiosi ma anche di studiosi alternativi che mi hanno posto nuove obiezioni nuovi spunti di riflessione quindi insomma si è creato un sistema molto affascinante ma al di là di tutto ciò quello che riguarda il nostro incontro di stasera è questo libro sui Rothschild io vagando su internet lo potete fare tranquillamente anche voi mi sono reso conto di quanto ci sia quante cose vengano dette su questa famiglia che è addirittura considerata alla stregua di una famiglia di assatanati di belve feroci che vogliono distruggere l'umanità ottenere il maggior potere possibile ai danni di chiunque eccetera allora siccome la questione era molto grossa persino imbarazzante mi sono fatto delle domande mi sono chiesto se avesse un fondamento storico tutto ciò se fosse vero che determinate famiglie gestiscono un potere sulla terra e siamo in una in una discussione piuttosto attuale se ci pensate perché siamo nell'epoca in cui si parla di queste grandi banche che gestiscono la finanza mondiale che gestiscono fin negli aspetti più più dettagliati e capillari la nostra vita la nostra economia la nostra cultura la nostra moneta la nostra sovranità e così mi sono messo a cercare e il lavoro è stato forse più difficile nel senso dello scremare la leggenda dalla realtà che non poi appunto trovare i documenti effettivi la cosa complicata è liberarsi di tutte le bufale si direbbe che sono state aggiunte e che in realtà non servono perché già di suo l'argomento è spaventoso e il potere di queste famiglie è davvero spaventoso senza bisogno di doverlo esagerare ma ho cercato di descriverlo in questo libro in modo il più possibile obiettivo questo libro ha funzionato bene nei primi due anni due anni e mezzo ma senza esplorare potete ben immaginare che un argomento di questo genere non sia particolarmente insomma sponsorizzato dai media anche perché i media ce l'hanno in mano loro e quindi non se ne può parlare granché ma è esploso poi di colpo da quest'estate quest'estate in seguito a un'intervista rilasciata a un canale che si chiama Bio Blue e che ha avuto centinaia e centinaia di migliaia di visualizzazioni questo libro ha cominciato a vendere incredibilmente e la cosa pazzesca è che questo libro è arrivato a essere alla fine di giugno il quinto libro più venduto da IBS in Italia il venticinquesimo libro più venduto da Amazon in Italia e non ne avete sentito parlare siamo arrivati nella top ten di IBS questo libro è venduto in venti giorni 5.000 coppie ma stiamo parlando di un libro che non ha nessuna pubblicità e non potrebbe averne questo per dire a che livello è arrivata l'informazione io ho a quel punto avuto a che fare con diversi giornalisti importanti ponendo la questione dicendo com'è che non ne parlate ma lo vedete vi faccio lo screenshot guardate dov'è neanche una risposta perché il discorso è sempre quello della della paura di andare a toccare questioni che possano essere pericolone e allora di che cosa stiamo parlando parliamo di una storia nella storia nel nuovo libro che uscirà a maggio e che in qualche modo è una specie di conseguenza di questo io a un certo punto dico questo e lo dico perché me ne sono accorto è come se noi avessimo imparato una storia fatta di azioni senza aver imparato e studiato gli attori la storia insegnata e imparata a scuola è una sequenza di azioni ma mancano gli attori uno dice ma come mancano gli attori Napoleone Garibaldi Mussolini non sono loro gli attori non sono loro i veri attori sono dei alcuni protagonisti ma minori ci sono attori o meglio ci sono attori nel senso meglio ancora coloro che hanno dato luogo forse addirittura no coloro che hanno scritto il copione diciamo così ma nel senso che i principali protagonisti diciamo così quindi gli attori in quel senso i principali protagonisti della nostra storia non non li conosciamo una famiglia come quella dei Rothschild che nel momento in cui ti metti a studiarla e lasci perdere i complottismi su internet ma studi i dati studi gli argomenti studi i documenti e ti rendi conto che ha gestito gli ultimi due secoli e mezzo della nostra storia in ogni evento della nostra storia e non compaiono su un libro di testo non c'è neanche una volta l'occorrenza del termine Rothschild c'è solo un caso in tutti i cinque anni per esempio di insegnamento della storia nei licei o nelle scuole secondarie superiori c'è un unico caso in cui occorre questo termine ed è legato alla dichiarazione Balfour la famosa dichiarazione con cui nel 1917 gli inglesi hanno in qualche modo accettato di prendere in considerazione l'idea della nascita di uno stato palestinese in mano di israeliani visto che questa dichiarazione Balfour è stata fortemente incoraggiata da un Rothschild da Lionel Rothschild che è il barone Rothschild inglese del ramo inglese della famiglia che essendo anche sionista ha spinto in questa direzione ma è l'unico caso è l'unica volta che si parla di questa famiglia da questo la considerazione nell'era dei social e di internet e l'era in cui ognuno di noi ha il suo profilo la sua pagina la sua foto e ci mette le foto dei gatti della nonna di quello che ha fatto della torta di compleanno e cerca il più possibile di avere amici seguaci parenti in quest'epoca in cui apparire conta tantissimo chi ha il vero potere non appare non c'è il potere non sta nell'apparire il potere sta al contrario nel riuscire a non farlo ecco è interessante questa questione allora chi sono questi signori la storia è la storia di questa dinastia è antichissima una delle cose che mi affascinano di più e che non conoscevo prima di fare questi studi perché non mi ero mai interessato di genealogia è proprio questa possibilità di riuscire a risalire indietro nella storia di certe famiglie rendendosi conto che hanno una storia antichissima che addirittura possono essere ricostruite le loro dinastie fino a secoli prima di Cristo ti rendi conto che certe famiglie che hanno avuto grande potere politico ed economico nell'antica Roma sono ancora quelle che hanno un grande potere politico e economico oggi e sembra una fantasia ma tu vai indietro vai risali all'indietro la loro dinastia e li trovi e arrivi ai connestabili di Guglielmo I il conquistatore arrivi in cima arrivi ai grandi feudatari ai grandi nobili persino ai grandi monarchi che si sono poi riciclati nei grandi imperi finanziari che in questo momento queste famiglie gestiscono alla faccia della democrazia alla faccia della rivoluzione francese alla faccia della repubblica bene più nello specifico insomma come potete immaginare c'è da dire tantissimo e quindi io tocco solo qualche aspetto la famiglia Rothschild nonostante abbia un'origine antichissima vede una grande svolta quando nel 1744 nel 1744 nasce Meyer Hansel Rothschild un figlio di un ferramenta della Judengasse di Francoforte quindi della strada della strada principale del ghetto ebraico di Francoforte uno dei ghetti più portanti d'Europa i ghetti come sapete erano nati un paio di secoli prima anche qualcosa di più dalla metà del Quattrocento a Venezia in poi ed erano queste zone delle grandi città in cui venivano in qualche modo confinate le comunità ebraiche in un'ottica di evidente discriminazione legata a accuse come quella di essere gli ebrei essere dei cidi aver ucciso Dio nella persona di Gesù Cristo per i cristiani e colpevoli di questo e di altri problemi di cui magari parleremo gli ebrei ai quali veniva imputato di tutto dall'uccidere i bambini e con il loro sangue impastare il pane azimo e cose del genere ma gli ebrei proprio per tutte queste questioni e queste accuse venivano confinati in certe zone e in qualche modo però in cambio ricevevano una specie di immunità perché in questi ghetti nessuno li toccava c'è tutto un discorso molto interessante sul rapport sul legame che c'è tra l'ebreo la cultura ebraica e il ghetto tant'è vero che quando i ghetti sono stati aperti e dopo la seconda guerra mondiale è finita l'epoca dei ghetti questa mancanza del ghetto la comunità ebraica l'avvertiva inizialmente non per una forma di masochismo ma perché era comunque un modo per far gruppo in modo protetto separato e però anche difeso e isolato dagli altri ma in questo ghetto della città di Francoforte nasce questo figlio di un ferramenta che però aveva la passione anche per le monete monete antiche collezionismo questo ragazzo dimostra subito di essere estremamente in gamba negli aspetti finanziari capisce come funzionano i prestiti e come si può fare un mucchio di soldi investendoli bene piccola parentesi perché questo legame tra gli ebrei e i soldi perché ancora adesso anche solo nei modi di dire tra i ragazzi dice non fare il rabbino quando uno non vuole pagare il rabbino chiese il capo religioso di una comunità ebraica la guida spirituale religiosa della comunità ebraica e e quindi perché questo legame il motivo è ce ne sono tanti ma uno dei motivi principali è questo nel tredicesimo secolo una inciclica pontificia stabilisce che il prestito di denaro è contro le leggi del Vangelo è contro l'ideale cristiano e si spiega anche il motivo si dice il papa dice non è giusto prestare denaro ricavandone interesse si chiamava usura adesso noi consideriamo chiamiamo usura il prestito quando ha un interesse troppo alto ma all'epoca era usura qualsiasi forma di prestito a interesse ecco è illecito per un cristiano è immorale per un cristiano prestare soldi e interesse perché dice la chiesa in questo modo si arricchirebbe sulla base della dimensione del tempo cioè si arricchirebbe facendo leva sul passare del tempo come ben sapete ma il tempo non appartiene all'uomo bensì a Dio e quindi l'uomo non ha nessun diritto di arricchirsi sulla dimensione che non gli appartiene nel momento stesso in cui il prestito ad usura il prestito viene precluso ai cristiani automaticamente subentrano gli ebrei che sono quelli che invece essendo già dannati in partenza perché per la chiesa cristiana un ebreo è dannato non certo può sperare nel paradiso essendo dannati di loro possono un po' fare quello che vogliono tenete conto che gli ebrei erano stati via via nel corso dei secoli privati della possibilità di esercitare per esempio l'attività economica basilare che era quella dell'agricoltura non potevano avere terreni loro proprio per questo essere stati dei cidi e essere nel peccato non potevano avere proprietà terriere quindi non potevano fare i contadini che era era il mestiere basilare di una comunità contadina come quella della stragrande direi della totalità del nostro del nostro continente quindi è chiaro che si buttavano nelle altre professioni tenete conto anche di altre cose anche abbastanza interessanti chi ha una terra da coltivare e cioè i cristiani ci manda i figli piccoli ancora piccoli a lavorare nei campi perché ha bisogno di aiuto e sappiamo bene che la civiltà contadina funzionava così secoli fa e i bambini già molto piccoli venivano messi nei campi a lavorare chi non ha questo genere di impellenza gli ebrei i bambini li fa studiare e gli ebrei erano molto più colti dei cristiani perché i bambini non finivano nei campi ma studiavano i grandi medici del medioevo sono ebrei i medici che curano gli imperatori i re sono ebrei i grandi i grandi finanzieri banchieri sono ebrei perché studiano così come studiano medicina studiano economia studiano diciamo le regole del prestito e dell'investimento del denaro laddove i loro i loro coetanei cristiani non possono farlo perché sono impegnati nei campi 10-12 ore al giorno studiano gli ebrei i loro testi sacri una delle caratteristiche tipiche del cristianesimo e soprattutto del cattolicesimo è una fortissima componente di analfabetismo relativa ai propri testi sacri i nostri ragazzi ma anche noi ne sanno pochissimo del Vangelo e della Bibbia è proprio tipico della cultura cristiana la scarsissima conoscenza del Vangelo e della Bibbia laddove invece un ebreo conosce a mena dito la Bibbia e il Talmud e tutto quello che riguarda gli scritti allora in questo clima le persone colte le più colte ma anche le più ricche erano proprio nella stragrande maggioranza dei casi provenienti da queste comunità ebraiche questo ragazzo quindi studia impara ha un grande talento e molto presto viene diciamo considerato da tutti e viene diciamo additato come un esperto di finanziamenti e di investimenti tant'è vero che Guglielmo IX l'angravio di Asia Kassel un principe tedesco molto ricco vuole conoscerlo perché vuole da lui dei consigli rispetto a come investire meglio il meglio possibile il proprio denaro il suo talento viene riconosciuto dai banchieri ebrei imperiali gli Oppenheimer che lo chiamano e lo fanno lavorare nella loro banca per conto dell'imperatore e questo ragazzo cresce e diventa uomo e diventa molto presto un punto di riferimento dal punto di vista finanziario lo stesso l'angravio Guglielmo IX farà un sacco di soldi grazie a lui e tra le altre cose tra gli altri consigli che seguirà ci sarà quello di investire in eserciti Guglielmo IX comprerà un esercito privato nel senso che si comprerà e si addestrerà si farà addestrare gli uomini e questo esercito privato poi lo userà per noleggiarlo ad altri re che a quel tempo avevano bisogno di soldati nello specifico un sacco di soldi Guglielmo IX fece dietro indicazioni della famiglia Rothschild fece nella guerra di dipendenza americana affittando il suo esercito personale al re d'Inghilterra ha perso l'Inghilterra come sapete con gli americani ma non importa perché il l'angravi di Assia Cass ha avuto i suoi soldi cioè il suo esercito è comunque stato pagato e l'affitto del suo esercito è stato pagato questo Meyer Amschel Rothschild quindi diventa sempre più ricco e sempre più esperto sposa una esponente di un'altra antichissima famiglia di banchieri ebrei e insieme fanno dieci figli cinque maschi e cinque femmine è all'ordine del giorno a noi a noi adesso sembra stranissimo ma in un'epoca in cui la mortalità infantile era altissima si si doveva sparare molto alto col numero di figli per sperare poi di avere qualche erede pensate che nel medioevo la media era due figli che diventavano adulti su venti quindi il dieci per cento era chiaro che se volevi sperare in un'erede dovevi farne dieci statisticamente parlando per questioni legate soprattutto all'aspetto della salute ma qui c'è un altro discorso che non è solo quello e capiremo meglio dopo a che cosa serve tutta questa discendenza insomma quando questi figli crescono vengono subito diciamo istruiti nell'arte dell'economia e della finanza i cinque maschi i cinque femmine non certo però vengono allevate per fare la calza finiscono mogli nei confronti di altrettanti esponenti di famiglie di banchieri ebrei molto influenti molto importanti detta di passaggio per scrivere questo libro io mi sono servito anche di biografie ufficiali come per esempio quella relativa ai Rothschild da parte di un del biografo ufficiale che si chiama Lothman il quale ecco è sempre molto così divertente leggere queste biografie perché questi biografi hanno soprattutto l'intento di lodare incensare queste famiglie altrimenti questi libri non sarebbero usciti e quindi questo Lothman nel momento in cui parla biografo ufficiale dei Rothschild nel momento in cui parla di questi dieci figli e delle figlie dice delle figlie non sappiamo neanche il nome perché in casa Rothschild quello che contava erano i maschi vai un po' a spulciare le genealogie e i nomi saltano fuori tutti ma perché non dovremmo saperli questi nomi è molto semplice proprio perché queste figlie sono lo strumento principale per intessere alleanze con altre famiglie di banchieri aumentare gli affari volume di affari e e quello delle insomma della ricchezza per fare solo un esempio Henriette Rothschild si sposa con un Montefiore in Montefiore erano ebrei di origine londinese inglese che erano che si erano trasferiti in Italia a Livorno avevano creato un impero con la loro banca a Livorno e il connubio tra i Rothschild e Montefiore darà origine a un gruppo finanziario assicurativo che oggi si chiama Allianz e che come vedete è ancora ben presente e detta le regole del mercato ed è nato da questa alleanza Rothschild Montefiore alla fine del Settecento dunque esistono due sistemi studiando un po' queste famiglie pian piano lo si capisce esistono due sistemi per utilizzare proficuamente i matrimoni l'unione tra esponenti della stessa famiglia se non ricordo male su 18 nipoti di Amschelmeier Rothschild su 18 nipoti 16 si sposano fra loro questa cosa funziona questa cosa viene messa in funzione quando bisogna mantenere conservare il patrimonio tutte le volte in cui il patrimonio va conservato i matrimoni rimangono in famiglia quando invece è il momento di espandersi e di moltiplicare allora i matrimoni servono come alleanza fondamentale per stipulare accordi con altre famiglie e qui un meccanismo molto interessante è quello della dote noi sappiamo che sin dall'antichità adesso si è persa questa cosa un po' sin dall'antichità il matrimonio faceva sì che la futura insomma la sposa portasse una dote nell'ambito di questi matrimoni tra famiglie finanzieri di banchieri ebrei la dote è quasi sempre una cospicua parte del pacchetto azionario dell'azienda di papà quindi si creano dei passaggi delle partecipazioni azionarie all'interno delle aziende che sfuggono completamente al controllo fiscale perché sono ufficialmente dei regali a una dote e che sfuggono a qualsiasi forma di informazione perché rimangono insomma rimane internos tra le due famiglie questo genere di scambio ecco quindi la dote per esempio aveva questa interessante funzione di mettere in società diciamo le due famiglie subito dall'inizio dal matrimonio stesso si entrava in società in qualche modo entrando l'uno dentro il board della della banca piuttosto che della della società dell'altro genitore i cinque maschi quando raggiungono l'età giusta e la competenza giusta vengono mandati da Meyer Amschel Amschel Rothschild quindi dal loro padre vengono mandati in cinque grandi capitali a fondare le cinque filiali della banca che nel frattempo Amschel Rothschild era riuscito a creare a Francoforte o meglio di quei cinque uno rimane a Francoforte e sarà il suo successore gli altri quattro vengono mandati in quelle che sono in quel momento le più grandi capitali europee Nathan viene mandato a Londra e là fonda la banca Rothschild di Londra Jacob che verrà poi soprannominato James viene mandato a Parigi e là a Parigi fonda la banca de Rothschild cioè i Rothschild di Francia che saranno in assoluto i più potenti Salomon Rothschild viene mandato a Vienna e aprirà la banca Rothschild di Vienna la quarta capitale in cui viene mandato uno dei figli Rothschild è Napoli Napoli che senso ha Napoli in realtà Karl Rothschild finisce a Napoli e in un in un luogo come questo in Piemonte dove ci hanno insegnato ma in realtà l'hanno insegnato a tutti gli italiani che Napoli era sottosviluppata e che quando sono arrivati quando è arrivato Garibaldi quando sono arrivati i piemontesi hanno trovato una situazione di povertà assoluta e in qualche modo li abbiamo tirati su andate a guardare il patrimonio finanziario del regno di Napoli all'epoca all'epoca dell'annessione all'Italia quando sta per nascere l'Italia tra il 60 e il 61 c'è questa spedizione di Milano andate a guardare a venti volte quella di Torino quella del regno Sabaudo venti volte tanto lì ci sarebbe da aprire di nuovo un capitolo enorme di studio su l'effettiva situazione economica del regno di Napoli rispetto al regno di Sardegna cioè al Piemonte e la Sardegna e il regno di Savoia e al depredamento bestiale che i Savoia hanno operato nei confronti del sud che poi è diventato sottosviluppato che poi è diventato alla fame travolto dal brigantaggio come segno di protesta violentissima nei confronti di questa situazione e poi della mafia uno dei Rothschild viene mandato a Napoli non a Torino non a Roma a Napoli e la fonda la sua la filiale diciamo italiana dei Rothschild come funzionavano queste cose ecco un aspetto secondo me piuttosto interessante è quello della spregiudicatezza con cui questi banchieri gestivano le loro finanze e i finanziamenti quello che ci insegnano a scuola è che il tal re a un certo punto aggredisce la tal nazione che la nazione A aggredisce la nazione B quello che non ci spiegano mai o non sottolineano è che per farlo ci vogliono i soldi e che per avere i soldi a sufficienza per creare guerre di quel tipo per finanziare eserciti armamenti artiglieria eccetera eccetera ci vuole un banchiere un re non può autonomamente come si crederebbe stampare moneta guardate c'è un motivo anche solo basilare banale al momento della fine della guerra di qualsiasi guerra si tratti c'è un vincitore e uno sconfitto lo sconfitto altra cosa su cui non si sottolinea mai abbastanza che non si sottolinea mai abbastanza lo sconfitto paga i danni chi rompe paga lo sconfitto è quello che deve pagare i danni al vincitore perché la guerra è costata e lo sconfitto deve pagare e al vincitore non gliene frega niente della sua valuta perché non se ne fa niente della sua valuta qual è lo scambio che può essere fatto soltanto attraverso l'oro o mi dai valuta in oro e stampi che ne so marchi in oro stampi franchi in oro stampi lire in oro oppure mi dai oro direttamente ma io non me ne faccio niente delle tue banconote e per avere oro o valuta in oro ci vuole chi quest'oro ce l'ha un'altra cosa che non si insegna mai è che le banche nascono nelle gioiellerie nel medioevo erano gli orefici i gioiellieri i primi banchieri erano quelli che erano essendo più protetti essendo avendo nelle loro botteghe una merce così preziosa erano quelli che custodivano con maggiore sicurezza i tuoi depositi prima di partire per un lungo viaggio un mercante portava i soldi per non lasciarli a casa sua e farseli rubare li portava dall'orefice sotto casa che normalmente era ebreo per il motivo di cui abbiamo visto sopra per la questione del prestito eccetera e chiedeva di tenedieli e in un primo tempo quei soldi vengono conservati gratuitamente poi si comincia a chiedere una percentuale su questo deposito e allora gli stessi che prestavano erano anche quelli che permettevano un deposito dei soldi e custodivano questi soldi in cambio di una percentuale di un ritorno economico e allora cosa succede accade che queste banche si trovino a finanziare i re che si scontrano tra loro ma la cosa è geniale è che spesso è la stessa banca se io ho una filiale in Inghilterra a Londra e ho una filiale in Francia a Parigi quando si verifica questo è il caso più eclatante è l'esempio che si fa spesso ma è importante quando si verifica la guerra tra Francia e Inghilterra quando si verifica famosissimo esempio la battaglia di Waterloo come volete cioè lo scontro finale tra Napoleone e il duca di Wellington per scontro che vedrà definitivamente sconfitto Napoleone l'esercito francese per arrivare fin lì e per condurre la sua guerra Napoleone in testa che poverino si fece tutta la battaglia coricato non so se lo sapete dentro una carrozza per un dolore bestiale lui soffriva di emorroidi ha fatto tutta la battaglia di Waterloo coricato dal dolore per le emorroidi questo è stato spaventoso ma sono particolari interessanti che ci rendono anche un pochino più vicini i personaggi della storia insomma in questa battaglia così epocale di importanza così grande per la nostra storia i francesi sono finanziati dai Rothschild di Parigi gli inglesi sono finanziati dai Rothschild di Londra chiunque vinca chiunque perde perda i Rothschild hanno vinto succede così che Napoleone viene sconfitto ma prima aveva ricevuto un prestito dai Rothschild di Francia per iniziare la sua battaglia Wellington aveva ricevuto un prestito dai Rothschild di Londra per iniziare la sua battaglia alla fine Napoleone sconfitto deve pagare i danni agli inglesi contrae un secondo prestito presso la banca Rothschild di Parigi per restituire per risarcire il nemico questi prestiti sono sempre prestiti enormi che non si riesce così facilmente a saldare e molto spesso questi prestiti provocano una situazione per cui per poter restituire il prestito ne contrai un altro perché a un certo punto siccome quei prestiti si basano su come si può dire sono collegate delle garanzie e la garanzia vuol dire che se per caso io non riesco a risarcirti magari mi parte un pezzo di stato che te lo prendi tu allora a quel punto per evitare di doverti cedere questa garanzia io contraggo un altro prestito per continuare a restituirti i soldi e poi mi trovo però indebitato anche con qualcun altro e molto spesso è la stessa banca facciamo un esempio che pochi conoscono l'Italia nasce grazie a una serie colossale di prestiti e il famoso debito di cui parliamo oggi in gran parte nasce lì precisamente poi se volete sono ancora più preciso perché i dettagli in questo caso sono raccapriccianti ma comunque accade che Cavour chiede un prestito ai Rothschild di Francia il solito James Rothschild chiede un prestito ai Rothschild di Parigi per poter unificare l'Italia e per fare tutta una serie di spedizioni compreso quella dei 1000 per arrivare poi all'unificazione dell'Italia il problema è che poi quel prestito non riesce a restituirlo e per evitare di cadere poi nella rete dei creditori Cavour contrae un secondo prestito con i Rothschild di Napoli e a quel punto noi siamo a due prestiti e con quei due prestiti colossali che la nostra storia inizia allora intanto già dal 1851 Cavour ancora come ministro come premier diciamo così dello Stato del Piemonte aveva iniziato a contrare prestiti con le banche Rothschild e ne aveva contratti talmente tanti che cominciava a essere veramente preoccupato rispetto al gran potere che stavano accumulando al punto che aveva cercato anche di aggirare l'ostacolo chiedendo poi un ulteriore prestito di 75 milioni di lire per le ferrovie piemontesi per costruire le ferrovie piemontesi agli Ambrose banchieri londinesi proprio per evitare di chiedere sempre gli stessi e va bene ma voi dovete sapere che nel 1860 Cavour ci ricasca e chiede 70 milioni in due prestiti diversi ai Rothschild nel 1861 Cavour nel frattempo muore muore nel giugno del 61 l'Italia chiede 700 milioni 700 siamo nel 1861 700 milioni di lire ai Rothschild di Francia in un primo prestito e altri 500 milioni di lire come secondo prestito per un totale di un miliardo e 200 milioni di lire nel 1861 tra il 61 e il 63 pari oggi a circa 6 miliardi di euro noi nasciamo con questo prestito un prestito corrispondente corrispondente oggi a 6 miliardi di euro è il classico prestito che non si restituisce mai più noi dobbiamo partire da questi dati e questi dati i libri di storia non ce li forniscono le cose le cose sono anche peggiori che i re avessero bisogno dei banchieri si sapeva da tanti secoli Carlo V come forse qualcuno si ricorderà lo abbiamo studiato a scuola Carlo V imperatore dal 1519 imperatore del sacro romano impero Carlo V aveva ottenuto aveva dovuto contrarre un prestito favoloso la cifra favolosa di più di 800 mila fiorini pari circa 10 rendite di re 10 rendite annuali di un re per poter pagarsi i principi elettori perché all'epoca siamo appunto all'inizio del cinquecento l'imperatore doveva pagare i suoi principi elettori i famosi 7 8 dipende dalle fasi principi elettori che dicevano quanto mi dai tra i due contendenti chi pagava di più riceveva il mio voto funzionava così chi era stato a finanziarlo grandi banchieri tedeschi che si chiamavano Fugger banchieri che finanziavano i signori ce n'erano tanti medici erano grandi banchieri che avevano finanziato grandi signori e che poi erano diventati a loro volta signori acquisendo un grandissimo potere politico cosimo de medici era il più grande banchiere d'italia che è diventato poi diciamo governante signore di firenze i peruzzi i bardi di banchieri ce n'erano tanti e questa cosa del prestare denaro ai potenti era particolarmente vantaggiosa perché perché se io presto denaro a un commerciante c'è il rischio che poi non me lo restituisca soprattutto se gli affari non gli vanno bene ma se presto denaro a un re lui ha un'arma per poter riuscire a recuperare i soldi e quell'arma è l'imposizione fiscale siamo noi che la paghiamo siamo noi che paghiamo il debito non so se mi spiego nel momento in cui il re si indebita con un banchiere che cosa fa aumenta le tasse e in quel modo dovrebbe nonostante questo il rischio c'era lo stesso i peruzzi falliscono anche i medici molte famiglie di grandi banchieri del medioevo falliscono perché a un certo punto i re non pagano più o perché non possono o come nel caso dei peruzzi perché il re dice no non ve li do ciao prova un po' vieni un po' a prenderli i Rothschild hanno un'intuizione geniale che non aveva mai avuto nessun banchiere prima di loro i Rothschild decidono di prestare soldi ai potenti ai sovrani e agli imperatori ma ha una condizione di entrare nella gestione finanziaria del loro stato questa questa è l'idea geniale che sposta il governo di una il concetto di governo di nazione dalla politica alla finanza una malattia di cui oggi soffriamo all'ennesima potenza in pratica il discorso è questo io ti presto i soldi ma da d'ora in avanti la gestione fiscale del tuo paese l'amministro io d'ora in avanti il debito pubblico per esempio lo amministro io vuol dire che se tu emetti nuovi titoli di stato i Rothschild spesso facevano questo e emetti delle cartelle di titoli di stato che ne so da 100 scudi tu me li dai a 90 io li rivendo a 95 e ci prendo subito il 5% e il tipo che li compra il cittadino che li compra a 95 quando a scadenza avrà i suoi 100 avrà avuto il suo interesse ma lui l'avrà avuto in 20 anni in 10 anni io ce l'ho subito nel momento stesso in cui gestisco questa faccenda comincio una fase in cui i ministeri delle finanze sono in mani ai banchieri le decisioni finanziari e fiscali sono in mano i banchieri da lì non se ne esce più un re lo stesso governante entra nella gabbia e non può più in nessun modo gestire la situazione sono poi gli stessi banchieri a coniare moneta sono gli stessi banchieri a gestirla la valuta ecco la grande intuizione prestare denaro a chi può restituirtelo ma come ulteriore garanzia per essere blindati entrare in cambio nella gestione fiscale e finanziaria dello Stato di quello Stato quando nel 1830 il Belgio ottiene l'indipendenza e nell'anno successivo nel 1831 diventerà poi un paese neutrale proclamerà la sua neutralità quando succede questo James Rothschild spiegando la questione ai suoi soci dice alla soluzione della questione belga seguirà una forte richiesta di fondi siamo sempre lì avranno bisogno di soldi si unificano avranno bisogno di soldi dovranno mettere insieme si rendono autonomi dovranno avere un esercito dovranno mettere in piedi uno Stato seguirà una forte richiesta di fondi e noi dovremo approfittare di quel momento per diventare padroni assoluti delle finanze di questo paese spiegato papale papale siamo nel 1830 questo è quello che dobbiamo fare col Belgio e questo è quello che fanno con l'Italia con i prestiti che vi ho detto che sono stratosferici e quello che fanno col Vaticano a cui vengono prestati ripetutamente moltissimi soldi c'è una celebre poesia di Giuseppe Gioacchino Belli poeta romano che in romanesco scrive in modo molto colorito e a un certo punto c'è proprio una poesia che si titola qualcosa come l'Ebreo Roccilli qualcosa del genere perché lui lo romanizza ma non so come dire e in cui praticamente prende in giro il Papa Gregorio XVI dicendo questi papi ce l'hanno tanto con gli ebrei però poi non disdegnano il fatto di farsi finanziare da loro e qui si ritorna indietro perché una delle caratteristiche tipiche dei papi ma anche dei papi così come dei governanti e dei re era quello di avere l'Ebreo di corte ogni grande governante dal Medioevo in poi aveva l'Ebreo di corte o gli ebrei di corte cioè gli ebrei erano dei cidi da disprezzare da tenere alla larga gli ebrei erano da tenere fuori dall'economia ma siccome erano ricchi perché in cambio del loro non poter avere delle terre e non poterle coltivare avevano esercitato proficuamente l'attività di prestito a usura beh servivano servivano i loro soldi e quindi ogni governante che si rispettava aveva il medico ebreo perché era come abbiamo visto gli unici che studiavano in questo senso e aveva l'Ebreo di corte nel senso del finanziatore del banchiere diciamo così e la storia è in gran parte costruita sulla dinamica dei soldi molto di più di quanto si pensi le ideologie le rivoluzioni le idee umanitarie la libertà tutto tutto ben poco rispetto a quello che era aspetto economico questa famiglia cresce i figli logicamente avranno altri discendenti e li troveremo protagonisti di tutti gli eventi storici faccio qualche caso faccio qualche esempio qua e là perché sparo un po' nel mucchio ma in realtà come potete immaginare gli ultimi due secoli e mezzo sono tutti caratterizzati da questa gestione finanziaria della nostra storia il Banco di San Giorgio a Genova la più antica banca europea nata nel 400 Napoleone non lo studiamo storia in storia non l'abbiamo mai studiato non lo sappiamo Napoleone quando prende la Repubblica quando prende la Repubblica di Genova la Repubblica Ligula la fa diventare una delle cinque Repubbliche Giacobine la prima cosa che fa è smantellare il Banco di Genova il Banco di San Giorgio prende tutto quello che c'era c'erano depositi di re di sovrani di vescovi depositi di altissimo valore porta tutto a Parigi e si finanzia i grandi viali alberati parigini eccetera la grandissima mole di oro che viene prelevato dal Banco di San Giorgio a Genova che viene svuotato è la fine della storia di questa banca la grandissima mole di denà di oro che viene presa viene affidata a James Rothschild e James Rothschild è colui che si occupa dello smercio dei lingotti d'oro e da lì in avanti i Rothschild ottengono un monopolio faccio un esempio ancora che è abbastanza ecclatante ma insomma i libri di testo non lo scrivono ancora eppure è una cosa assodata da anni ma i nostri figli non lo studiano Lenin dà il via alla rivoluzione d'ottobre e quindi alla rivoluzione russa nel 1917 dà il via alla rivoluzione d'ottobre grazie ai finanziamenti di una banca tedesca con filiale a Stoccolma e di una banca americana cioè i tedeschi e gli americani finanziano la rivoluzione russa aspetta Lenin il comunista quello che c'era con i borghesi con i soldi con le banche si fa finanziare dagli americani oh Der Spiegel ha trovato gli assegni i bonifici bancari ci sono gli estremi ma come facciamo allora a raccontare poi la storia a scuola continuando a inventarci le ideologie del comunismo ora voglio dire io non sto dicendo che Lenin non ci credesse ma pensate un po' siamo nella prima guerra mondiale i tedeschi da una parte i russi dall'altra quindi abbiamo Russia da una parte Germania dall'altra gli americani con l'intesa sono entrati in guerra contro i tedeschi che cosa succede? i tedeschi sono vi ricordate impegnati su due fronti in contemporanea il fronte occidentale con i francesi il fronte orientale con i russi non ce la fanno l'esercito è schizofrenico deve combattere su due fronti i tedeschi fanno una cosa finanziano la rivoluzione d'ottobre che faccia crollare lo zar e che cosa chiedono in cambio alieni? noi ti stacchiamo questo assegno tu vai fai la rivoluzione ma la prima cosa che fai una volta preso il potere è fai uscire la Russia dalla guerra e noi possiamo concentrarci sui francesi e questo è quello che accade appena viene in sale al potere c'è la famosa pace di Brest-Litovsk la Russia esce ad ogni costo fra l'altro con un costo terrificante in termini di perdite di territori e di soldi perché uscire da una guerra in corso è costosissimo la Russia esce la Germania è libera di concentrarsi sui francesi e gli americani ma gli americani avrebbero dovuto avere avrebbero dovuto mantenere la Russia in guerra perché era dalla loro parte perché hanno finanziato anche loro gli Enin ma è semplice perché gli Enin in cambio avrebbe garantito decenni e decenni di arretratezza in una Russia che fino a quel momento era un competitor terribile avendo i pozzi petroliferi a Baku una Russia in cui c'erano pochissime vetture ancora automobili e c'era un bassissimo consumo di benzina e quindi il prezzo del carburante era bassissimo se fosse continuato in questo modo gli americani avrebbero dovuto fare i conti con una competizione con una concorrenza spaventosa per il mercato del petrolio ma se ci vai tu vieni e metti in atto un potere che fa uscire la Russia dalle logiche di mercato internazionali ritorna al baratto abolisce l'uso della moneta e si isola completamente da tutti noi America siamo a posto e liberi per poter gestire un monopolio mondiale da un punto di vista economico finanziario e la Germania è libera di farsi la sua guerra tanto poi ci pensiamo noi a sconfiggerla ecco con questi criteri la storia noi non l'abbiamo mai studiata ed è sconvolgente e forse anche abbastanza schifosa però è anche interessante perché fa capire che probabilmente ci sfugge qualcosa e che vale la pena approfondirla molto di più insomma normalmente durante uno scrutinio quando si dice il tipo cosa gli diamo di storia eh ha preso quattro sei cinque cinque e gli diamo cinque porca miseria ma dagli cinque di storia ma la storia basta studiarla si dice sempre così ma hai preso cinque di storia ma la storia basta studiarla cosa vuol dire la storia basta studiarla vuol dire basta che te la impari a memoria no e no e che se comincio a ragionarci sulla storia se voglio capire la storia non è così facile la storia non è più una stupidaggine da imparare a memoria ma noi vogliamo continuare a dar l'idea a scuola di una storia che basti impararla più o meno passivamente tanto da non rompere troppo le scatole da non sollevare troppi dubbi e come vedete i dubbi ci sono al comune chi ha un po' di dimestichezza con la filosofia avrà senz'altro sentito parlare di Anne Arendt e Anne Arendt a un certo punto in un libro famosissimo che si chiama o meglio Anne Arendt scrive un libro famosissimo che si chiama La banalità del male a proposito della cattura e del processo e poi dell'esecuzione della condanna a morte di Eichmann di un gerarca nazista in questo libro cioè di questo libro a scuola noi parliamo sempre soltanto rispetto alla questione appunto che il male non ha niente di perverso e geniale ma è molto ma è molto è una cosa molto banale nel senso che chi operò il male durante il nazismo fu spesso burocrate fu furono persone che eseguivano banalmente ordini perché arrivavano dall'alto e quindi se gli dicevano di gasare un milione di persone lo facevano perché era un comando un ordine e bisognava eseguirlo ma in questo libro ci sono scritte altre cose che sono quasi costate la cattedra all'Arendt che le hanno attirato accuse gravissime fortissime da parte della comunità ebraica a cui apparteneva Anarendt sottolinea che una grande responsabilità nell'olocausto ce l'hanno avuto i vertici delle grandi comunità ebraiche internazionali a cominciare da quella tedesca cioè in altre parole l'Arendt sottolinea un accordo tra i vertici dell'ebraismo tedesco e Hitler e il nazismo banalmente buttiamola lì in modo semplificato chi è finito nei campi di concentramento erano i poveracci i ricchi ebrei si sono salvati tutti anche perché avevano in mano le finanze che a Hitler stesso servivano per poter fare la sua guerra e uno degli esempi più spaventosi di questa questione è questa Ige Farben Ige Farben era un colosso gigantesco messo insieme dalla famiglia Warburg che è un po' come se fosse diciamo che sono i Rothschild tedeschi con sede ad Hamburgo quelli che alla fine hanno determinato le sorti della Germania e incluso poi tutta la questione che ben conosciamo del nazismo eccetera questo colosso era un gigantesco gruppo di industrie chimiche che non solo esercitava il dunque era considerata la principale azienda il principale colosso industriale tedesco ma era il principale gruppo chimico del mondo Ige Farben che teneva insieme sei grandi aziende chimiche tra le quali la Bayer per esempio l'Agfa una serie di aziende chimiche importanti Ige Farben cresce e durante il nazismo quando si verifica la famosa arianizzazione forzata vuol dire che le aziende in mano agli ebrei o le banche in mano agli ebrei Hitler pretende che vengano strappate dagli ebrei e consegnate agli ariani e quindi quando si studia questo si studia che gli ebrei hanno perso tutto non è vero in realtà Hitler lasciò ampio margine di ampio ampio diciamo spazio di manovra agli ebrei ricchi potenti che avevano in mano queste aziende permettendo loro di scegliersi dei prestanomi insomma dei titolari ariani cioè non ebrei che al loro posto mantenessero in vita e gestissero la proprietà del loro gruppo e mantenessero insomma in piedi i loro interessi chiaramente questi lo facevano nell'ottica di un domani andarsi poi a recuperare le loro aziende ora cosa succede in questo clima di arianizzazione i Warburg sono gli ultimi a essere costretti all'arianizzazione pensate fino al 38 Hitler sale al potere nel 33 fino al 38 i Warburg mantengono la loro banca M.M. Warburg che è la più forte banca tedesca è una delle più forti del mondo la tengono in piedi loro nelle loro mani nel 38 vengono obbligati alla realizzazione la loro banca passa dei prestanome da cui poi la recupereranno a fine guerra dopo la caduta del nazismo e la Igefarben viene in qualche modo fusa con la standard oil dei Rockefeller americana e il cambianome viene volgarmente chiamata Igestandard mi sembra qualcosa del genere cioè diventa una banca che ufficialmente chiedo scusa diventa un gruppo chimico che ufficialmente è nelle mani americane dei Rockefeller con sede a New York in realtà questa Igefarben stabilisce una serie di filiali in prossimità dei più grandi campi di concentramento tra i quali Auschwitz e utilizzava manodopera gratuita nello specifico di migliaia e migliaia di ebrei che uscivano tutti i giorni da Auschwitz e si infilavano lì dietro l'angolo c'era l'azienda entravano lavoravano in condizione di schiavitù logicamente senza nessuno stipendio per decine di ore per fabbricare quel famoso Ziklombi che secondo i giudici di Norimberga è quello con cui venivano gasati gli stessi ebrei quindi se lo fabbricavano da soli quindi questa Igefarben viene in realtà gestita e arricchita e potenziata attraverso la manotopera gratuita e sotto forma di schiavitù degli stessi ebrei che in qualche modo si occupa poi di far fuori tant'è vero che a Norimberga uno specifico capitolo del processo contro i nazisti è dedicato alla questione Igefarben nel senso che tutti i titolari di Igefarben tutti i soci proprietari i Varbur romai si erano messi in salvo ma tutti i soci proprietari vengono chiamati alla sbarra giudicati dai giudici di Norimberga dai giudici americani condannati a pene in realtà piuttosto ridicole che vanno tra l'anno e mezzo mi sembra gli otto anni di reclusione e nel momento in cui però il processo di Norimberga si chiude per buona condotta così vengono subito rilasciati e uno dei principali direttori di Igefarben che aveva avuto forse la pena più alta mi sembra otto anni di reclusione che se la cava invece molto velocemente rientra in Bayer ormai l'Igefarben viene smembrata e ritorna divisa nelle varie aziende da cui era stata costituita rientra in Bayer e ne diventa dirigente di nuovo principale azionista fino poi alla pensione in cui si ritira a Straricco questo è un'idea di nuovo di come la storia anche solo dell'olocausto dei campi di concentramento vada quantomeno un pochino riconsiderata e anche lì probabilmente svuotata di tutto il contenuto ideologico che ci viene messo e trasmesso in classe e sui libri di testo è rivista alla luce di questioni banalmente e volgarmente di profitto io non insegno io dopo aver fatto 17 anni di precariato e aver preso la cattedra nel 2007 finalmente avendo vinto due concorsi ed essendome l'ha sognata fino a quel punto ho cominciato a vergognarmi soprattutto a sentirmi complice tutte le volte in cui mi devo mettere a insegnare delle cose che non reputo più vere d'altra parte nel momento in cui mi sono messo nella condizione di insegnare quello che io ho trovato sui documenti e quindi di dissentire dai libri di testo che i ragazzi adottano sono stato subito marchiato e ho rischiato molte volte niente di grave ma la calunnia le maldicenze colleghi che mettono in dubbio la mia buona fede e che nell'ora successiva suggeriscono ai miei stessi alunni di non credere a quello che dico aggiungiamo che è una delle mie tante altre battaglie che la scuola in questi ultimi anni si è aziendalizzata e segue logiche sempre più privatistiche che sono assolutamente nella stessa sintonia di quello che ci siamo detti la scuola in questo momento non è più finanziata dai ministeri dai governi dalle tasse nostre ma è finanziata da Coop S. Lunga lo sapete benissimo i buoni scuola noi le lavagne non possiamo più averle perché pare che di colpo uno stato non si possa più permettere di comprare le lavagne per le sue scuole e quindi deve comprarle S. Lunga vi ricordo che S. Lunga è stata fondata da Rockefeller non è poi se l'è comprata Caprotti qualche anno dopo dandogli un bel assegno di 4 miliardi ma in realtà è stata fondata da Nelson Rockefeller in Italia ora cosa succede che queste aziende gestiscono finanziano direttamente sono loro che tirano fuori soldi per la carta igienica per le fotocopie per i gessetti per le lavagne ma in cambio vogliono delle cose vogliono per esempio un orientamento scolastico che significa un indottrinamento da parte dei colleghi che vanno in classe a dire dovete fare questo piuttosto che invece questo seguite questa strada e non questa imparate a lavorare tenetevi stretto il lavoro anche se vi pagano 3 euro all'ora non importa sottomettetevi imparate a capire che non siamo più al tempo in cui si può decidere che cosa si vuole fare dovete stare alle logiche di chi comanda noi stiamo c'è un'intervista che è passata su Youtube parecchio in cui io clamorosamente sostenevo noi insegnanti produciamo servi noi negli ultimi anni stiamo facendo questo stiamo spaventando i nostri studenti stiamo insegnando loro che non devono seguire il loro talento che devono il più possibile fare o economia o ingegneria anche se sono dei violinisti o dei filosofi perché se no saranno alla fame non avranno lavoro che se hanno qualche talento devono dimenticarselo che devono essere pronti anche a lavorare quasi gratis perché il lavoro è molto più importante della famiglia è molto più importante di una moglie di un marito dei figli li stiamo creando anzi in continuazione ecco io l'istituzione vale pochissimo non è più in grado di educare perché nessuno educa più è una trasmissione di contenuti sbagliati vuoti freddi che basta Wikipedia tanto è già Wikipedia pre piena zeppa di balle quindi basta già quella e io in questo contesto qui non ce la faccio più quindi è due anni che io sono in aspettativa senza stipendio e che lavoro continuamente scrivendo per cercare di sbarcare il lunario con i miei libri perché lo ritengo l'unico modo coerente per continuare a vivere per quello che credo non so fin quando ce la farò mi auguro di continuare ma l'alternativa sarebbe il tradimento non so come dire una vergogna la maggior parte di ragazzi che io degli alunni che ormai io mi trovo davanti hanno in mente soltanto lo smartphone e la marca dei pantaloni e questo è quello che stiamo producendo noi ripeto produciamo consumatori e servi sono spaventati non dicono quello che pensano te li trovi non possono dire non possono dire ma siamo in democrazia o no il classico caso dell'alunno che ti dice io quando faccio un tema scrivo le cose che vuole la prof e così prendo onore guardate che non è un'invenzione è tipico se la mia prof esatto se la mia prof è di sinistra io scrivo cose di sinistra perché se scrivo altre cose mi dà 5 ma dai 5 perché non ha le tue idee siamo a questo punto questa è la scuola allora è evidente che se io insegno questo insegno a essere codardi insegno il compromesso insegno a chinare il capo insegno a non dire quello che pensi la scuola sta servendo a questo e d'altra parte la scuola dell'obbligo se l'ha inventata Napoleone non servirebbe una scuola dell'obbligo se non per formare dei sudditi è evidente cioè noi dobbiamo formarci l'elettorato e allora obblighiamo i ragazzi ad andare a scuola io sono per una scuola non dell'obbligo per quel che mi riguarda io sarei per una scuola che finisce sapete leggere, scrivere, far di conto a casa basta poi se c'è qualcuno che veramente vuole studiare avanti gli altri se c'è un buon meccanico perché gli devo rompere le palle fino a 16 anni con il latino la filosofia e che ne so quando in realtà mi servono meccanici bravissimi mi servono violinisti bravi ma è chiaro che invece in questo modo l'indottrinamento continua e io riesco a tenerli sotto le mie grinfie gli stessi genitori lo vogliono perché lavorano perché non sanno come tenerli a casa non è successo a Torino non sanno neanche il Presidente della Repubblica assolutamente una delle ultime interrogazioni che ho fatto un ragazzo mi parlava di Giovanna d'Arcore no allora Giovanna d'Arcore Giovanna d'Arcore e Ronaldo da Vinci cioè questo è il livello insomma quello che voglio dire è che la questione è quando dall'inizio del terzo millennio 2000 è partita la scuola dell'autonomia e si è cominciata a parlare di saperi minimi io ho capito dove stavamo andando ho cominciato subito a lottare tanto che i corsi abilitanti mi hanno dato i voti più bassi che potevano perché hanno capito questo rompe i coglioni ma in realtà il problema era questo cioè saperi minimi vuol dire insegniamo il meno possibile no abbassiamo il livello culturale e soprattutto il livello critico chi entra lì dentro se prova a cambiare le cose viene travolto da un oceano di discredito se si allinea è un complice scegliamo a noi la scelta a noi la scelta